Perla Vatiero. La notizia shock di pochi minuti fa. Mi separo. Mirko Brunetti in lacrime. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti. Lasciare un like. E attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Lunedì 8 aprile 2024 segnerà l'inizio di una nuova edizione dell'Isola dei Famosi. completamente rinnovata sia nei contenuti che nella conduzione. Affidata quest'anno a Vladimir Luxuria. Tra le novità più chiacchierate c'è la possibile partecipazione di Perla Vatiero. Vincitrice della diciassettesima edizione del Grande Fratello e nota al pubblico per la sua precedente esperienza a Temptation Island. Secondo quanto riportato dalla rivista di più tv. Circola con insistenza la voce che Perla potrebbe separarsi temporaneamente dal suo compagno Mirko Brunetti per unirsi al cast dell'Isola. Sebbene non fin dall'inizio del programma. Questa ipotesi, se confermata, rappresenterebbe una svolta sorprendente per la sua carriera televisiva. Seguendo il detto, battere il ferro finché è caldo. Il percorso di Perla al Grande Fratello è stato definito dalla stessa come, meraviglioso e inaspettato. Un'esperienza che le ha permesso di ritrovare l'amore e di guardare al futuro con ottimismo e entusiasmo. Come ha dichiarato in alcune recenti interviste. Tuttavia, la possibilità di vedere ancora Perla e Mirko insieme all'Isola dei Famosi, dopo quasi un anno di esposizione mediatica, potrebbe apparire eccessiva. Resta da vedere se questa voce si rivelerà fondata o meno. E se l'Isola dei Famosi sarà davvero l'occasione per rivedere Perla Batiero sul piccolo schermo. Nel frattempo, l'attesa per la nuova edizione del reality show si fa sempre più intensa. Lascia un commento alla fine del video, e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.